Presto il comune costiero di Roseto degli Abruzzi avrà sul proprio territorio una postazione fissa H24 del 118, una buona notizia per i cittadini ma anche per i turisti che vedranno abbassare di molto i tempi di interventi da parte delle ambulanze che prima erano costrette a partire dall'ospedale Giulianova. Un accordo sottoscritto tra ASL e Comune che permetterà anche il recupero della Casa Rosa, struttura situata lungo la Nazionale Adriatica. Dopo l'accordo sottoscritto con la ASL di Teramo per avere una postazione fissa del 118, quindi un medico presente H24 sul territorio comunale che serve anche per i comuni limitrofi, siamo andati a ratificare in giunta l'autorizzazione per eseguire i lavori da parte della ASL per adeguare i locali che noi abbiamo messo a disposizione proprio nella struttura di Casa Rosa per fare in modo che presto si possa avere la postazione fissa del 118 e quindi dimezzare i tempi di soccorso sul territorio perché pensiamo che partire da Giulianova ed arrivare per esempio a Santa Lucia si impiegano circa 20 minuti nell'ora di punta. Partire dalla zona del palazzetto di Roseto e arrivare a Santa Lucia si impiegano circa 5-6 minuti, quindi tempi più che dimezzati, soccorso celere e quindi possibilità di salvare vite umane molto più alta. Una risposta anche per il periodo estivo? Sicuramente sì, nel periodo estivo quando i casi aumentano questo ci aiuterà moltissimo ma il dato positivo è che poi questa postazione rimarrà fissa per tutto l'anno quindi Roseto diventerà un presidio fisso del 118 oltre al lavoro che è stato fatto per il nuovo distretto sanitario di base presentato proprio a Roseto dall'assessore Paolucci che vedrà anche dei posti letto sul territorio comunale.